Sono quattro i progetti presentati dal comune di Noto finanziati dall'assessorato regionale per l'agricoltura, 2 milioni e 700 mila euro, questo l'importo complessivo che servirà per ripristinare ed ammodernare alcune strade provinciali. Attraverso questo finanziamento, ha detto l'assessore regionale per l'agricoltura Edi Bandiera, diamo risposte concrete al territorio che necessita di un ammodernamento della viabilità interaziendale per una migliore fruizione e interconnessione di fondi e aziende che gravitano sul territorio. Ad essere interessati dai lavori saranno un tratto della strada provinciale 81 nelle contrade Castelluccio e Mezzogricoli per poco più di 670 mila euro, un tratto della strada provinciale 90 nelle contrade Castelluccio e Mucia per un importo di circa 670 mila euro, un tratto della strada provinciale 80 nelle contrade Aguglia, Bancazzo, San Marco, Testa dell'Acqua per poco più di 676 mila euro ed un tratto della provinciale 64 nelle contrade Noto Antica, Testa dell'Acqua per un importo pari a quasi 675 mila euro.